Eccoci amici, la notizia di oggi, oggi questo venerdì 24 aprile, che la Guardia di Finanza di Cosenza, vedete, sono qui, hanno transennato, hanno chiuso Piazza Bilotti a Cosenza, quindi un'ordinanza, se non mi sbaglio, è stata tolta, non c'è, per la Procura della Repubblica, eccolo qua, Piazza Bilotti chiusa, hanno fisso il cartello pochi minuti fa, ve lo leggo subito, ecco la Guardia di Finanza e Nucle di Polizia Economico-Finanziera di Cosenza, aria sottoposta a sequestro, ex articolo 321, in esecuzione del decreto numero 524, in aprile il Tribunale di Catanzaro, sezione GIP-GUP, quindi praticamente l'aria è stata transennata, anche c'è il parcheggio sotterraneo di Piazza Bilotti, quindi è tutto sequestrato, c'è la Guardia di Finanza qui che presiede ovviamente la piazza, si sono anche i vigili urbani, ed eccola qua, quindi è arrivata l'ordinanza di chiusura del Tribunale GUP-GIP di Catanzaro. Per il momento è tutto, Fabio Di Polito da Cosenza, la linea lo studio.